Mario D'Ondero nel suo navigare intorno al mondo aveva fatto tappa nei primi anni del 2000 per qualche mese anche a Cartoceto. Quindi abbiamo appreso con grande rammarico la notizia della sua scomparsa domenica scorsa. E aveva fatto tappa a Cartoceto lasciando una traccia importante del suo passaggio, sia a livello bibliografico, via infatti un libro intitolato Alle terre di Cartoceto, sia dal punto di vista di quella che era la sua arte per eccellenza, cioè l'arte fotografica in ogni sua forma. State raccogliendo delle testimonianze? Sì, abbiamo raccolto delle testimonianze in questi giorni che ci evidenziano come Mario D'Ondero era rimasto affascinato dal nostro territorio, dai personaggi che vivevano e che vivono tuttora il nostro territorio. Quindi stiamo anche raccogliendo la documentazione necessaria per rendere il giusto omaggio a questo artista. Leggendo uno dei suoi libri in questi giorni ho visto che lui voleva essere ricordato non come un grande fotografo, ma come una persona che ha voluto bene alla gente. Ora, noi sappiamo che lui ha sicuramente voluto bene a Cartoceto e Cartoceto vuole bene lui e cercherà di renderlo immagino per la sua grande opera fotografica.